Noi cerchiamo di fare un'altra buona prestazione, sapendo di giocare contro una grande squadra, una squadra che sta facendo un grande campionato, allenata da un ottimo allenatore, che se non fosse per questo mega campionato della Regina, sarebbe ampiamente a posto con le aspettative della piazza e societaria. Sicuramente partiamo sfavoriti, ma ce la vogliamo giocare fino in fondo, perché questo consentirebbe di andare ai quarti di finale. Con le nuove regole da qualche anno, per noi è una partita che ha la stessa valenza di una partita di campionato. Noi ieri abbiamo fatto un allenamento defaticante, quindi ho potuto lavorare poco per coloro i quali hanno giocato domenica. Abbiamo lavorato su quelli che non hanno giocato domenica. Oggi farò un allenamento in funzione della partita di domani sera. E domani mattina cureremo i dettagli, quindi il tempo a disposizione sicuramente è poco, però noi penso che abbiamo conoscenza didattica per come affrontare le situazioni e per come interpretare questa gara. La società che oggi guida l'Avellino a noi non ha mai fatto mancare nulla. Poi se ci sono delle situazioni che io sono a disconoscenza, non lo so. Io penso al campo, chiedo di andare in ritiro e mi mandano in ritiro. Chiedo il pullman e mi arriva il pullman. Una organizzazione perfetta. Poi se ci sono delle situazioni dove io sono a disconoscenza, non lo so. Ma intanto io devo cercare di far capire alla squadra l'importanza della gara e loro lo sanno perché sono ragazzi molto intelligenti. È una partita secca e quindi la devi affrontare muovendo tante pedine, no? Perché poi puoi andare ai supplementari e poi puoi andare anche ai rigori, no? Quindi non è una partita di campionato, sono quelle partite secche dove vanno affrontate magari non con una fase di attentistica nella maniera più assoluta. Però è una partita che potrebbe essere lunga, che noi giochiamo contro un avversario, inutile dirlo, fare ancora complimenti alla Ternana, fortissima. Dove sicuramente noi ci andremo a giocare le nostre carte e mi auguro che il pubblico domani ci dia una grande mano. Chi ha detto che il Charpentier ha dei problemi? Perché ha avuto un problema e l'ho tolto dal campo. Però ieri il Charpentier si è allenato, ha fatto dei faticanti come tutti gli altri. Quindi a me non risulta, almeno al momento, che il Charpentier non possa prendere parte alla gara.